Dove devolo sarà a Church Street? Sì Ormai siamo a North Adams Sì North Adams? Sì Massachusetts C'è uno degli edifici stregatti più misteriosi del New England Beh, siamo appena arrivati a North Adams nel Massachusetts E siamo venuti qui a North Adams nel Massachusetts Albert Charles Houghton nasce nel 44 nel Tempio Massonico Ma deve la sua fortuna alla Arnold Print Works Io mi chiamo Zack E loro sono Nick e Aaron Io sono Peppa Pig Siamo chiusi dentro la sua villa e non possiamo uscire Dopo che ci siamo presentati agli spiriti che si dice infestino la villa Abbiamo installato una camera a visione notturna all'ingresso laterale Dove sono stati avvertiti rumori di porte sbattute Ma che è che il mona che batte la porta e che chiude urlando? Come vedete i sensori di movimento non si spengono Suonano come pazzi C'è qualcuno? No, 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 fai mona Sembrano impazziti Quando abbiamo visionato il girato della videocamera Per capire cos'era stato a far scattare i sensori di movimento Siamo rimasti sbalorditi Vedo dei picchi È qui, Albert? Non le piace quello che ho detto? Le dispiace che ci siano i picchi Chiusi nella sua casa? È quasi mezzanotte alla Autumn Mansion Cerchiamo lo spirito dei picchi Che senti? Passi C'è qualcuno che cammina nella camera di Mary Che diavolo è stato? Oh, baby, è triple! È odore di muschio Vero? Sì Ricorda una vecchia colonia Lo sentite? Vero? Sì Che c'è qui dentro? Diamo un'occhiata Che c... Monella! 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 Sei una monella! Sei una monella! Davanti a me ho sistemato una palla Da usare come palla Un oggetto da cui lo spirito potrebbe essere attratto Prima di andarsene Nick e Aaron installano altre videocamere a visione notturna In modo da riprendere Nick e Aaron C'è qualcuno qua giù? Sì C'è qualcuno dietro di me? Chi è stato? Sto cazzo Sto cazzo Sto cazzo